Oggi la nostra agricoltura si deve guardare, oltre che dalla crisi, anche dalla scarsità di risorse umane e intellettive. Recessione a parte, infatti, si sono pochi operatori competenti e con un'età media elevata, con una cultura legata a decenni passati e quindi con scarse prospettive di futuro. A questo si aggiunga la disoccupazione, dato allarmante, visto che oggi si attesta al 37%, eppure i giovani che cercano disperatamente lavoro potrebbero avere in questo settore un futuro, specie quelli le cui famiglie hanno da decenni tracciato la strada. Certo, c'è ancora la nostra classe dirigente che stenta ad occuparsi come priorità di questo settore, mentre si dovrebbe capire che sta lì, nella terra, in quei campi, in quelle mani, in quella voglia di sudare, l'identità del nostro territorio. Bisogna che il mestiere di agricoltore, insomma, torna ad essere prestigioso e soddisfacente come un tempo, che torna ad essere uno dei mestieri verso cui l'uomo per natura deve proiettarsi e quindi ricevere anche riconoscimenti a livello non solo economico, ma anche sociale. E allora il tempo del vai a zappare, rivolto a chi non è portato agli studi, è finito da un pezzo. Oggi a zappare la terra è proprio il caso di tornare, anche perché l'hanno capito chi pensa che, partendo dal cibo, che si cambia la società e si migliora l'ambiente, la salute e la qualità della vita di tutti. Come riportava giorni dietro un sito di settore, è arrivato il momento di salire in agricoltura. Dovrebbero però capirlo, essendo in grave ritardo, istituzioni, politiche e anche banche.